Verdetti in importanti sono emersi nelle partite di giovedì sera di Europa League. La Roma ha vinto con un turno di anticipo per i sedicesimi di finale, battendo all'Olimpico per 4-1 il Victoria Fisen. Verdetti a sorpresa hanno riguardato Inter e Sassuolo. I nerazzurri di Stefano Violi hanno perso in Israele per 3-2 sul campo del Beresciva, dopo che nel primo tempo erano in vantaggio di due reti nella ripresa il blackout che ha consentito ai padroni di casa di avettuare l'operazione in sorbasso. Il Sassuolo è stato sconfitto invece per 3-2 sul campo dell'Atleti che Bilbaro è eliminata dall'Europa anche a causa del successo contemporaneo della promozione belga del Genk sulle rapide di Vienna. Invece qualificazione della Fiorentina rinviata per i ragazzi di Paolo Sosa che sono stati sconfitti in casa dal POC Salonico con il ponteggio di 3-2. Poco tempo per riposare nel weekend. Tornare a Serie A.